buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi giorno di santo stefano 26 dicembre 2019 tempus fugit il tempo passa tutto scorre tutto passa diceva il buon zaratrustra di niccio se non l'hai letto ti consiglio di leggere un bellissimo libro ti apre la mente io lo leggevo in francia quando ero un ragazzo studente universitario erasmus a montpellier eccetera eccetera tanti anni fa mi aprì un po la mente però lo lasciai perdere perché non leggevo più di tanto all'epoca non ero un lettore adesso da circa 12 anni per non dire di più ho divorato migliaia di libri a dir poco e la mia mente è cambiata la mia vita è cambiata detto ciò premesso tutto ciò altrimenti perché la mia vita è lunghissima come la tua credo e forse più della mia rispondo ad un ragazzo di 20 anni il quale mi ha scritto ieri dicendo dottore io da più di un anno faccio una sessione presso un signore di disciplina alternative contro la mia depressione che una depressione leggera contro le mie ansie la mia asocialità il fatto è che non mi va di uscire il fatto che sto sempre chiuso a casa eccetera eccetera è come se sto ragazzo di 20 anni sfondasse una porta aperta che il sottoscritto io quando ero uno studente da ragazzo secchione casa chiesa scuola non uscivo mai addirittura i miei genitori non l'ho saputo mai di fatto perché ho 52 anni ma l'ho capito con i fatti portavano i miei cugini a prendermi con delle scuse da casa per farmi uscire ok perché il mio era studio tv eccetera eccetera e al limite il calcio perché a calcio giocavo ed ero abbastanza dotato a calcio fino a 15 anni e lì conosco un po quella cerchia ristretta di amici che giocavano a pallone al campo di calcio quindi che cosa succede che questo ragazzo mi ha detto vado una volta settimana un'oretta però non vedo che la mia depressione la mia disperazione la mia tristezza volano va via è passato più di un anno la musica rimane lì ho visto il suo video dottore degli auguri di natale e mi sono fatto coraggio perché non mi sono fatto quelle paranoie lo faccio lo dico non lo dico scrivo non scrivo che costui che non è costui gratis non gratis si pagherà non si pagherà dice cazzate non dice cazzate con la k maiuscola bene mi ha scritto mi ha detto cosa posso fare per io gli ho risposto ragazzo mio se tu da un anno da più di un anno quindi sono una seduta a settimana di un'oretta quattro al mese per un anno sono più di 48 più di 50 sedute non si può definire ipnosi vera e professionale come la definisco io è tutto tranne ipnosi sono tecniche tradizionali alternative o discipline che ti portano magari a togliere il tuo problema ma ci vuole una vita l'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola è una cosa veloce flat come vedi nei film anzi forse pure di più se fai quello che ti dico io poi ognuno nel mondo dell'ipnosi ha il suo metodo attenzione l'ipnosi che vedi in giro anche su youtube sui social sul a parte l'ipnosi fuffa da spettacolo l'ipnosi paura tutto l'altro tipo di ipnosi un'ipnosi conformista e commerciale che comunque buona attenzione nessuno vuole parlare male degli altri però seguono tutti il filone di milton erickson di deve elman di brian ways degli ottimi pro terapeuti che però con il loro metodo dovevi essere un vero artista per usare le loro i loro script le loro suggestioni infatti nei corsi che ho fatto anch'io io ho iniziato alla pnl poi sono arrivato all'ipnosi conformista commerciale di milton erickson di deve elman di brian ways gli altri ho mischiato un po tutto e io infatti per diversi anni sono stato un ipnotista autodidatta notavo che c'erano degli effetti positivi però temporanei mentre con il metodo di los angeles dell'ipnosi dicesse vera professionale che ho fatto tutto mio io da dieci anni mi ipnotizzo ragazzi h24 e non soltanto il sottoscritto che come san tommaso io ho eliminato tantissime cose su di me mal di testa cronico dolori al petto per l'ansia paure eccetera 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 negatività pessimismo rabbia accesa io mi accendevo in un nanosecondo quando succedeva un problema perdevo la pazienza io ho tante attività in italia all'estero se ho messo questa faccia qua davanti gli schermi non è per fare soldi perché grazie a dio come lo dico anche in altri video sto bene da qui alle prossime dieci vite grazie a dio grazie alla mia mente grazie all'ipnosi grazie al fatto che ci ho creduto ci è creduto quando sono partito da studente lavoratore senza una lira in tasca ok in quel di modena dove piangevo di notte ridevo di giorno frustrato al massimi livelli depresso ai massimi livelli ansioso ai massimi livelli rabbioso ai massimi livelli perché non mi sentivo realizzato non mi sentivo realizzato mi chiedevo in quelle notti buie che caspita sto facendo su questa terra oggi l'ho capito che che cosa era successo eppure all'epoca non conoscevo neanche la parola ipnosi riassumendo per non andare per le lunghe io sto ragazzo gli ho detto guarda continua sempre con il professionista con chi ti sta seguendo bla bla perché comunque se hai dei miglioramenti ben venga ma non la chiamare ipnosi è tutt'altro ok va bene lo stesso ma non è ipnosi e soprattutto non è ipnosi vera e professionale gli ho spiegato che ci sono degli audi mp3 dcs della mia associazione i prologi associati che non tratto io come vendita ma la mia associazione i prologi associati di los angeles beverly hills che in vari stati del mondo poi hanno la loro concessionaria di vendita sono degli audi mp3 dcs veramente potenti e professionali tutte parole scritte ad hoc che non trovi in giro né su youtube né a pagamento e naturalmente costano quattro cinque volte di più rispetto a quello che trovi in giro in italia all'estero perché all'estero ragazzi un mp3 di audi pro si sta sui 20 25 dollari ognuno dei miei audi mp3 da quanto so io stanno sui 100 120 dollari uno solo purtroppo ok lo so che è un costo proibitivo per molti e addirittura ragazzo che mi ha chiesto quanto viene quanto non viene gli ho detto scrivi ai prologi associati che oggi ho la libro punto iti la mia associazione che ti risponderanno perché un loro diritto dovere rispondere a te sui costi perché ci sono delle convenzioni in mezzo però ti posso garantire una cosa questo ragazzo che ho detto per il momento non spendere neanche un dollaro neanche un euro neanche un soldo registrati questa frase potentissima potentissima ogni giorno da ogni punto di vista miglioro sempre di più gratis con la tua voce o la voce della mamma tua di chi ti vuoi bene di chi ti piace eccetera eccetera registra per 21 volte mettila in loop senza auricolari no auricolari no e farla girare 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 tutta la notte mentre gli addormenti un filo bassissima perché il mio metodo l'ho detto anche in altri video ma lo ripeto anche qui non cerca la trans ragazzi cerca anche se non la esclude per chi la vuole ma cerca il sonno il sonno le sommeglie dicono i francesi nel sonno nascono le migliori cose i templi del sonno i templi dell'antico egitto dell'antica roma dell'antica grecia i templi di esculapio i templi del sonno ecco cosa ho scoperto io ecco il mio metodo dcs di ipnosi auto ipnosi vera e professionale falla girare perché basta soltanto questa frase per uscirtene ok per uscirtene completamente poi se non riesci gratis da solo con la tua voce ad uscirtene allora utilizzerai investirai tre euro al giorno per un mese una colazione a cui fai a meno oppure un tuo vizio di cui puoi fare a meno e inizi ad comprare il primo audi mp3 dcs di ipnosi vera e professionale come ha fatto tantissima gente nel mondo che costa circa 100 euro l'uno e la tua vita cambierà da così a così se farai e seguirai le istruzioni alla lettera come ti insegnerò ok non credere al sottoscritto non sono un santo non sono un guru sono soltanto una persona che le ha provate tutte tutte e tutte oggi sono una persona nuova 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 e ricordati di riprosi e dire tutto dire nulla e la tua mente la mente dell'essere umano che fa il miracolo in ogni cosa che puoi immaginare in ogni cosa e non soltanto nella salute nel benessere nelle relazioni rapporti nell'amore delle cose visibili e invisibili la cosa bella è che l'ipnosi è riconosciuta come medicina alternativa dall'associazione medica mondiale nel 1958 dalla chiesa con papa pionoro nel 1847 per cui a tutti i santi crismi per non essere vista come magia ciarlataneria incantesmi chi più ne ha più ne mette anche se è partita da quelle origini anticamente ok per cui prova 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 io finché sono su questa terra finché ho l'ultimo respiro finché farò l'ultimo dei miei passi speriamo da qui ai prossimi 300 anni la mia mission la mia missione è quella di sdoganare l'ipnosi anche nel mondo della stessa ipnosi dove medici psicologi psicoterapeuti che usano l'ipnosi uno su cento stanno zitti zitti per non offendere i colleghi i quali scettici increduli e tradizionalisti non accettano il nuovo e la storia è piena di queste storie ragazzi quando inventarono la forza vapore l'aereo la radio la tv l'autovettura la corrente elettrica quando si passò dalla candela per fare luce alla lampadina elettrica tutti all'inizio dicevano ma che caspita dici ma che caspita fai ma che caspita non esiste una carrozza tirata senza cavalli immagina lo stupore come diceva anche il grande schopenhauer una verità prima si critica poi si sbeffeggia e poi si accetta come ovvia quindi o anche cristoforo colombo lo prendevano per i fondelli quando scopri le americhe no ecco da cui poi nacque la massima dell'uovo di colombo ma era scontato che tu prima o poi scoprivi una cosa del genere tutto è bello tutto è facile ma soltanto chi da più di dieci anni come il sottoscritto le ha provate tipo dire che funziona non soltanto su di me perché ripeto ancora una volta sono come salto un maso ma su centinaia e centinaia di persone d'italia all'estero che io ho aiutato che sono passato da così a così anche casi impossibili perché la dottoressa brunini e il professor garai sono degli ipnoterapeuti di fama internazionale conosciutissimi in america latina los angeles a hollywood miei maestri miei mentori miei amici miei associati i quali hanno risolto casi di paralisi di ictus come mio padre di epilessia di autismo di parkinson di alzheimer io lo so che per alcuni adesso sto bestemmiando ma è la verità e poi se non ti costa nulla perché non provi no perché non provi è la mente umana ragazzi che ha questo potere ok la mente fammi tutte le domande del caso visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.iprologi associati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cese il dottor claudio saracino e faccio il condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che ricambia la vita e visita anche i profili instagram e twitter per essere i prossimi soluzioni di cese il dottor claudio saracino e al prossimo e alla prossima ricordati non devi credere a me devi soltanto approfondire fare un bacio e un abbraccio